Mi ci sono effettivamente volute delle ore, ma finalmente siamo tornati a dove ero arrivato col salvataggio precedente. Siamo arrivati. No, non ancora. Sembra che camminiamo. Ehi, non è la mia missione. La prossima volta alla Dama del Lago chiedine una più breve. Ma in realtà la missione era finita, quella della Dama del Lago. Quello è un piano? A quanto pare. Che splendida giornata è qui per me. Oh, che gran bel viaggio. Mi ci vuole una canzone. Guarda i miei baffoni. Oh, che bei baffoni che c'è un cino. Aspetta un solo te per farci un buon frappello. E allora saprai che scampo non avrai. Ma... Posso andare a menare un cino e a rompergli il giocatto? Come si fa con i bimbi cattivi. I pugni nella pancia di Gere che fanno sempre morire da ridere. Vieni qua. Beccati questo. Stupido albero. Che poi sei un albero malvagio. Quindi non sei neanche un buon albero. Vaffanculo. Ecco fatto. Oh, dai! In animazione non ho potuto fargli il colpo. Che tanto non sono neanche sicuro della missione. Però volevo vedere. Probabilmente dovremmo fare cinque colpi di grazia come al solito. Sì, ovviamente. Trova tutte le tazze. Questo vuol dire che questo livello... Non finisce solo col combattimento, quindi. Ma forse sì. Scusami, ci sono tre tazze. Ci sono tre tazze. E da un cino ancora non ci posso salire, quindi... Oh, no. E no, c'era il triangolo. Oh, è tornato quello col bel piatto d'argento. Ma dai! Calmi tutti un attimo. Vieni qua. Allora, fermo. Fermi. Sì, ma va a distruggire i cannoni. Sto cercando un attimo di... Di sistemarmi qui io, eh. Ecco fatto. Ma c'è Artù che sta combattendo. Ma dai! E vai! L'albero è stato distrutto dal cannone. I colpi di grazia sono stati fatti. Perfetto. Ehi! Basta un po' tutti qua. Ecco fatto. I cannoni, credo, siano a posto. Nel senso, non stanno più sparando, quindi... Ah, aspetta. Forse ho capito cosa devo fare col cannone. Devo spostarli. Devo spostarli per... Per andare a menare un cino. Eh, cinquanta colpi di seguito. Incredibile. Mi piace tanto il fatto che ballino. Per il resto è una cazzata sto gioco. Oh, calmo. Perfino la mia mamma mi chiamava caro, carognetto. Oh, ma poi la... La canzone c'ha anche un... Ma c'è un punto nascosto. C'ha anche un seguito, alla fine. C'è il senso, c'ha anche un senso la canzone. Ecco fatta, là. Disegno, calmi tutti. Ah, ho già capito. Qua c'è la tazza, sicuro. Ovviamente. Oh, è tornato il simbatticone. Però aspetta. Dov'è l'ultima tazza? Secondo me nel pianoforte. Comunque stavo dicendo furbo mettere il cannone proprio qua davanti. Quando lo userò proprio per venirti a menare. Aspetta che... Ecco, fatto. Beh, il piano non è andato come previsto. E quello era un piano? Oh, non infierire. Ci è voluto più per la canzone che per il piano. È vero, sicuramente. Come se non fosse pateticamente evidente. Ora, dimmi dove si trova Fiona. È nella prigione reale. Sorvegliata da streghe, cavalieri. È ancora peggio. Sì, è. Al ciclope. Sì, che abbiamo menato già due volte. Temevo che lo dicessi. È stato così terribile. Stai infiorendo di nuovo. Forza, Artù. Andiamocene. Ah, così. Lo lasciano lì. Non gli tirano un pugno. Non lo accoltellano. Non gli rompono neanche il pianoforte. Ma sì, tanto. Voglio dire. C'è voluto più tempo per ritornare a questo punto che per giocarlo, effettivamente, a questo punto. E abbiamo fatto tutto a livello perfetto. Con anche disegnini. Ma dai. Eillingo. Èשה senza terribile. Ah.